e andiamo avanti con il prossimo gruppo, il gruppo Arberesh Schipognat di Santa Sofia De Piro, una rappresentante qui, un applauso per favore, a te una breve presentazione. Mir Broma Kitbe Kaskipognat, buonasera a tutti dal gruppo Folk Schipognat di Santa Sofia De Piro, Santa Sofia è una comunità Arberesh qui vicino a Luzzi e come comunità albanofana mantiene vive gli usi, le tradizioni, i costumi e la lingua, compito della nostra associazione Schipognat che nasce nel 1994, quindi questo è il nostro venticinquesimo anniversario, è proprio quello di tramandare e divulgare le nostre tradizioni e la nostra cultura e lo facciamo attraverso la messa in scena di canti e di danze, dalle sonorità Arberesh ed albanesi più balcaniche. Schipognat infatti significa acquine, a richiamare il simbolo della bandiera albanese. Il nostro gruppo si rinnova negli anni, nei volti, proprio perché teniamo molto a mantenere vive la tradizione e vi assicuro che io, essendo una delle fondatrici del gruppo, ho assunto quest'arduo compito, vedere le bambine ballare, conservare, indossare i nostri costumi è veramente un grande orgoglio e una grande soddisfazione. Il nostro repertorio è interamente seguito con musica dal vivo, con una orchestra strumentale prettamente maschile, noi ballerine siamo tutte al femminile. Alcuni brani sono stati della nostra orchestra riarrangiati, non mi dilungo a parlare ma vi auguro buona serata, buono spettacolo, un ringraziamento particolare e doveroso a tutta la comunità di Luzzi, al comune e alla Proloco, in particolare al signor Enzo che ci ha accolto con grande calore. A voi tutti, buona serata. Tutto pronto? Ok, allora a voi il gruppo di Santa Sofia del Piro, Schipogna! Grazie! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.